Gianni Colacione per LibriTV, oggi 15 giugno e siamo in compagnia di Margherita Schirmacher che è curatrice degli eventi di una manifestazione che rientra nell'ambito dell'estate romana 2018 questa manifestazione si chiama Letture d'estate, lei cura gli eventi, è molto impegnata credo che ci sarà a breve una conferenza stampa, una piccola conferenza stampa qui all'aperto speriamo che il tempo regga e noi ovviamente cerchiamo di promuovere come rientrano nel costume di LibriTV le iniziative culturali e soprattutto quando ci sono coinvolti dei giovani e in questo caso appunto Margherita, Margherita che ho conosciuto personalmente grazie ai social ho incrociato e poi è interessato a quello che stava facendo Margherita, qualche connotato di questa manifestazione, di che si tratta? e poi daremo anche qualche indicazione dove prendere le informazioni su internet Allora, Letture d'estate è una delle manifestazioni che fanno parte appunto dell'estate romana che inauguriamo il 21 giugno ai giardini di Castel Sant'Angelo e che è organizzata dalla Federazione Italiana Invita la Lettura la manifestazione nacque nell'86 sul Ponte degli Angeli appunto dalla fantasia di Rosanna Vano e di Vito Altieri che sono i due conduttori storici dell'iniziativa e adesso siamo qua a fare praticamente la trentesima edizione che nel frattempo ha cambiato nome, siamo un po' rinfrescata si chiama Letture d'estate e inauguriamo il 21 giugno fino al 2 settembre con una marea di partner, un calendario infinito di eventi non riveliamo più di tanto ovviamente perché noi dobbiamo invitare la gente a venire qui di persona però ci vuoi dire, ovviamente si tratterà di un parterre di autori di scrittori, immagino anche poeti, non so ma ecco ci sta, ho visto che tu sei molto impegnata nella scelta, nel reperimento di questo materiale artistico e umano un criterio, un qualche indirizzo particolare? Allora, ho cercato in realtà di selezionare lungo questi mesi vagando tra fiere editoriali, librerie, leggendo i giornali e studiando anche un po' su internet, molto banalmente sui social e facendomi mandare le schede dagli editori fatta tutta questa indagine ho selezionato i titoli che potessero rappresentare un po' tutti i possibili lettori quindi dal romanzo rosa al noir al saggio sugli scacchi, al saggio sugli alberi passando per il classico romanzo d'autore quindi cercando il più possibile comunque di portare sia grande editoria che i marchi più piccoli Quindi praticamente ci saranno dei giorni, delle serate in pratica dedicate ad un autore e in particolare ad un genere in qualche modo? No, in realtà no, ogni serata verranno ospiti uno o due autori che terranno due presentazioni diverse il tema sarà il loro ultimo libro quindi ci sarà il loro ultimo libro in vendita si farà la presentazione del loro ultimo libro e sarà fatto così insomma Perfetto, nel frattempo ci scusiamo con chi guarderà questa intervista perché è uscito dal sole e stiamo diventando praticamente in controluce prima stavamo più illuminati ma comunque, senti Margherita diciamo quanto durerà quanto durerà e questi eventi che orari avranno? Allora gli orari, abbiamo detto che durerà dal 21 giugno fino al 2 settembre e gli eventi, il calendario degli eventi inizierà pressoché attorno alle 19 di ogni giorno e andrà avanti fino alle 22 non ci sono solo presentazioni di libri ma ci sono anche tornei di scacchi proiezioni a cura del centro sperimentale concerti a cura di quattro diverse musiche sì, musiche, scuole di musica che sono la Mississippi Music School la Ganassi, la Ida e la Rubinstein poi si terranno anche eventi per i bambini curati dalla libreria Ottimo Massimo ci sarà il centro Shatsu Igea che farà dimostrazioni di Shatsu aperte al pubblico e lezioni e non so, sicuramente sto dimenticando qualcosa tornei di giochi da tavolo a cura di Goblin dello spazio Goblin insomma ci sono tante cose allora per chiudere possiamo dare qualche indirizzo insomma qualche indicazione, link, qualcosa del genere perché i nostri ascoltatori possano poi magari cercare c'è un calendario immagino pubblicato potete seguirci su Letture d'Estate su Facebook su Instagram, su Twitter potete digitare www.letturedestate.it dove c'è il nostro calendario online sempre aggiornato potete venire dentro i giardini di Castel Sant'Angelo a vedere la manifestazione a prendere un programma cartaceo e basta volevo dire una cosa alla quale tengo molto che la manifestazione da sempre raccoglie fondi per Peter Pan Onlus che è un'associazione che fornisce da una casa ai piccoli pazienti ricoverati in oncoematologia qua vicino all'ospedale Bambin Gesù quindi ogni sera sarà possibile donare faremo delle casette dove si potranno donare un soldino per Peter Pan Onlus e Peter Pan inaugurerà la manifestazione con una serie di eventi proprio finalizzati alla raccolta fondi Perfetto, abbiamo anche chiuso con questo spazio insomma questa intenzione abbastanza etica oltre che culturale ringraziamo Margherita Libertv è qui Letture d'Estate venite tutti Grazie a tutti